Oggi andremo a scoprire quali sono i boss più grandi mai creati in un videogioco. In questo caso non parliamo di personaggi cicciotti o particolarmente grossi, ma di veri e propri giganti che sono assurdamente grandi per essere inseriti in un videogioco. In questo crescendo di misure andremo a superare la grandezza di qualsiasi pianeta, quindi fidati e resta con me fino alla fine del video. Iniziamo con un argomento particolarmente legato al mio canale e quindi anche a molti di voi, il gigante di fuoco di Elden Ring. C'è ben poco da dire, questo nemico è un gigante e come tale è ovviamente enorme. Grazie al cielo in questo scontro titanico possiamo sfruttare Torrent, il nostro cavallo, caprone, qualcosa per spostarci ed anche per combattere il nostro boss gigante. Inoltre dobbiamo considerare che anche nella seconda fase di questa boss fight, nella quale il gigante finirà a combattere in ginocchio, il nostro nemico rimane davvero gigante e molto difficile da affrontare. A volte trovarsi contro boss così enormi può essere un problema, anche solo per il semplice fattore telecamera che non riesce ad inquadrare il nemico per intero. Se giochi i Souls sai benissimo che la camera è il più grande nemico in ogni gioco From Software e se in più ci metti dei nemici enormi la situazione non può che migliorare. Il mio più grande trauma al riguardo è il Chierico Bestia di Bloodborne, io ho odiato quella boss fight solamente per la telecamera. Fortunatamente in questo caso hanno inserito il gigante di fuoco in un'arena enorme e dunque l'unico problema sarà riuscire a prevedere le sue mosse che ovviamente quando siamo vicino a lui escono matematicamente dallo schermo. Ma se questo boss ti sembra gigante ti stupirai dei prossimi, nonostante devo ammettere che siano tutti abbastanza famosi. Lascia l'emoji di una fiammella se anche tu hai odiato questa boss fight. Facciamo un enorme tuffo nel passato per parlare di Malus, il boss finale se non erro di Shadow of the Colossus. In questo caso questo nemico è addirittura scalabile e dunque la sua stazza è più che chiara. In Shadow of the Colossus non è difficile ritrovarsi contro dei nemici colossali. Ha ha, fatto la battuta. Nessuno di essi è considerabile piccolo, ma Malus è decisamente il più grande di tutti e forse anche il più piacevole da affrontare. La sua boss fight si quasi riduce però in una scalata lungo il corpo del mostro e forse è questo quello che mi ha fatto scendere un po' il gradimento della fight in generale. Nonostante il gioco sia degno di attenzione ed è quella che potremmo considerare una pietra miliare per i giocatori, non è riuscito a conquistarmi a livelli indicibili. E diciamocelo, accorgersi che Malus è davvero enorme non è così impossibile in un gioco nel quale vediamo noi, un cavallo, una tizia morta ed infine solamente colossi da abbattere. Tu che ne pensi di Shadow of Colossus? Lascia un cuore nero se l'hai amato ed uno zombie se non ti è sembrato niente di che. Nonostante tutto però Malus si merita solamente il quarto posto visto che ti sto per parlare di altri mostri e boss che sono davvero molto più grandi di un colosso stesso. Quali ti chiedi? Ora lo scopriremo perché al terzo posto troviamo un vero gigante ma ancora una volta non abbastanza gigante da vincere il primato. Monster Hunter 3 è stato il primo Monster Hunter che ho giocato e mi ricorderò sempre il mio senso di impotenza quando ho visto arrivare Zora Mardagos. Come ben saprai ogni bestia che incontri Monster Hunter è molto più grande di te ma nel caso di questo enorme dragone si parla di un essere che supera l'altezza delle montagne stesse. Se non ricordo male, ho giocato a Monster Hunter parecchio tempo fa questo boss compare più volte durante la nostra avventura e sempre per farci notare la sua imponenza e quanto se ne sbatta di tutto quello che noi facciamo per cercare di fermarlo. Ogni volta in cui ho incrociato questo mostro però la sensazione di piccolezza, passami il termine è sempre stata più che chiara. Ed in questo caso mi sento di dire che le dimensioni dei mostri se gestite bene possono fare davvero la differenza durante l'esperienza di gioco. Quando ti ritrovi di fronte a svariati nemici che ti porteranno fin da subito a sentirti una caccola vedere arrivare un boss ancora più enorme dà un senso di impotenza fantastico ed è proprio quello che deve fare un boss che viene studiato per fare questo effetto come nel caso di Zora Mardagos. Nel caso di Shadow of Colossus ad esempio il senso di impotenza ovviamente c'è ma va quasi subito a disperdersi visto che affronteremo solamente dei colossi giganti e dunque dopo troveremo quest'incontro una cosa normalissima per lo standard del titolo e non ci faremo più caso. Invece per Zora Mardagos la situazione è opposta lui è titanico e la sua figura è stata generata in maniera superlativa per quanto mi riguarda una delle poche cose che ho apprezzato di Monster Hunter 3 un'altra un popolare opinion per voi. Torniamo a parlare di un classicone visto che in seconda posizione troviamo Kronos di God of War 3 parliamo di una divinità che però nell'universo di Kratos ha delle dimensioni non da poco mi ricorderò sempre la scena nella quale esso ci stringe tra sole due dita e nuovamente la sensazione di essere piccini e spinta all'ennesima potenza come il distruggere queste creature dà un senso di potere e soddisfazione davvero enorme. Questa è una delle mie boss fight preferite di God of War anche se devo dire che da quando il buon Kratos si è fatto crescere il barbone ci siamo ritrovati contro delle boss fight davvero fantastiche. Kronos è stato recentemente superato e battuto nella mia lista di boss preferiti da Thor ma tornando ai nostri boss giganti Kronos è sicuramente il più degno di ottenere la medaglia d'argento e sono abbastanza sicuro che ti starai chiedendo chi potrebbe essere più grande di un essere come Kronos che è stato pensato, disegnato ed infine creato come un vero e proprio gigante altro che il gigante di fuoco. Beh, qualcuno c'è e forse non lo conoscerai. Lascia l'emoji di un sole se conosci il boss che sta per vincere il primato. Ed ecco a voi la medaglia d'oro. Il boss più grande mai inserito in un videogioco è Chakravartin un boss di Asura Sprat che è decisamente enorme. Stiamo nuovamente parlando di un dio ma in questo caso di un'entità così grande da combatterci lanciandoci interi pianeti contro. Ed è proprio un suo attacco, non sto esagerando. La stessa arena, altro non è che lo spazio ed incontrarlo è davvero un'esperienza mistica. Nel caso di boss precedenti potevi almeno lontanamente farti un'idea delle dimensioni del nemico che ti trovi di fronte ma in questo caso è impossibile. Stiamo affrontando una divinità che per una volta rende proprio l'idea di un dio. Se dovessi pensare a come sarebbe fatto e come si manifesterebbe un dio sarebbe più o meno così. E se la tua domanda è a cosa serve creare dei boss così enormi in un videogioco? Beh, dipende dal contesto in cui ci troviamo dal tipo di gioco e via così discorrendo. In alcuni casi è quasi obbligatorio che il nostro nemico sia enorme proprio come nel caso di Chakravartin serve a rendere l'idea. Ora stiamo parlando di casi molto precisi un gigante, delle divinità, dei colossi e via così discorrendo. Il caso in cui, almeno secondo me non serve creare dei boss eccessivamente grandi o alti è ad esempio quello dell'orfano di Kos di Bloodborne. Non stiamo certo parlando di un gigante ma nonostante questo abbia le fattezze di un essere umano è giustamente o ingiustamente a tua scelta alto un metro più di noi. Ma tralasciamo anche l'orfano di Kos perché è un semidio eccetera eccetera. La vera lamentela che potrei muovere è che tende ad infastidirmi se voglio cercare il realismo e la classica situazione nella quale un nemico è più alto di noi ma senza un senso apparente. Pensiamo ai cavalieri del crogiolo di Elden Ring molto più alti di noi oppure ai cavalieri neri di Dark Souls perché i mostri nei videogiochi nonostante si parli di esseri umani sono sempre più alti del personaggio. Anche il più banale soldato di Godric è più alto del nostro personaggio. Ed ora che siamo giunti alla fine del video voglio sapere la tua qual è secondo te il boss più grande che hai mai incontrato nei videogiochi? Ma soprattutto conoscevi tutti questi 5 boss enormi? Noi ci vediamo nella sezione dei commenti ma prima se vuoi supportarci ricordati di iscriverti al canale. Questa lista di nomi che vedi scorrere a schermo è composta da tutti gli abbonati del canale. Quelle persone che hanno deciso di supportarci mese per mese e continuano a farlo la lista sta diventando davvero immensa ed è per questo che alla fine di ogni video vi ringraziamo ed in cambio vi permettiamo di vedere i video in anteprima. Se anche tu vuoi supportarci oppure semplicemente non hai voglia di aspettare per vedere un nuovo video di Top Games avrei capito che basta abbonarsi ovviamente senza impegno.